Sala Consilina, l'amministrazione si candida ad accogliere la Casa di Comunità, area PIP Mazzaniello, posizione strategica. Provincia, alvia, sfalcio e pulizia dei giardini prima del nuovo anno scolastico. Polla, un triangolare per chiudere il ritiro della primavera della Salernitana, presenti anche con l'Antuono e il team manager a Vallone. Concluso il cammino storico-religioso Caggiano-Vigiano, ieri l'arrivo al santuario. Agricola, il mercato contadino, domani ultimo appuntamento estivo a Teggiano. Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. L'amministrazione comunale di Sala Consilina candida un terreno per accogliere la nuova struttura assistenziale e sanitaria dove si sposteranno servizi e uffici attualmente ospitati nell'ex tribunale di Sala Consilina. Il terreno, candidato per un totale di oltre 5.000 metri quadrati, è ubicato nell'area PIP di località Mazzaniello al ridosso dell'uscita autostradale. Vediamo i dettagli. Potrebbe sorgere nei pressi dell'uscita autostradale di Sala Consilina per essere facilmente raggiungibile da ogni parte del territorio distrettuale la nuova casa di comunità in cui dovrebbero essere allocati tutti i servizi e le attività del distretto sanitario 72 che attualmente vengono effettuate presso l'edificio dell'ex tribunale e tutti gli ambulatori medici. L'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ha dato l'ok alla richiesta di concessione del diritto di superficie di un terreno comunale sito in località Mazzaniello, su cui l'ASL di Salerno è interessata a realizzare la struttura sanitaria in cui dovrebbero essere trasferiti gli uffici del distretto e le attività ambulatoriali, in maniera tale da centralizzare le attività di assistenza territoriale. Questo almeno l'obiettivo che il piano sanitario della regione Campania intende raggiungere con la realizzazione della casa di comunità su tutto il territorio. Un obiettivo suscettibile di variazioni, al fine anche di venire incontro alle esigenze dei singoli territori diversificati per conformazione geografica, densità abitativa e collegamenti. Attraverso i fondi del PNRR, nell'ambito della misura 6 dedicato alla salute, l'ASL di Salerno, al fine di potenziare l'assistenza territoriale, punta alla realizzazione di case di comunità. Per tale ragione, come si legge nel documento approvato dalla Giunta Comunale di Sala Consilina, l'azienda ha avviato un confronto con i diversi enti locali per le candidature di terreni e immobili da destinare alle strutture di assistenza territoriale. L'amministrazione comunale salesi ha deciso di candidare a tale scopo terreni di proprietà comunale per un totale di oltre 5.000 metri quadri nell'area PIP di località Mazzaniello, dove realizzare la struttura con i fondi del PNRR. In modo da garantire, si legge sulla delibera di Giunta, un'ubicazione più consona alle pressanti richieste di natura emergenziale attesa alla vicinanza allo svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria e la centralità dell'area su cui edificare la struttura sanitaria rispetto agli altri paesi del Vallo di Diano, serviti dalla competente ASL. La Giunta Cavallone ha quindi manifestato la volontà di concedere il diritto di superficie sul terreno per 99 anni, rinnovabili per altri 99. Voltiamo pagina. Nei prossimi giorni, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, partono i lavori di sfalcio, di serbo, pulizia e manutenzione delle aree verdi nei plessi scolastici provinciali. Si tratta di 28 istituti in 16 comuni salernitani. Vediamo. Sta per iniziare la scuola e la provincia di Salerno in questi giorni, avvia interventi di taglio dell'erba e di pulizia delle aree verdi di numerosi istituti scolastici provinciali per accogliere gli studenti con il massimo decoro. A tale scopo, l'ente, lo scorso luglio ha destinato ulteriori 100.000 euro. Si tratta di 28 istituti in 16 comuni salernitani, tra questi nel Vallo di Diano, il Sacco di Sant'Arsenio e nel Golfo di Policastro il Da Vinci di Sapri e il Pisacane di Torre Orsaia. Ci sono poi l'Asteas di Buccino, il Da Vinci di Vallo della Lucania, l'Anselchis di Castelnuovo Cilento. Ovviamente, dichiara il presidente Michele Strianese, non è solo una questione di decoro esterno dei plessi, ma di tutela della sicurezza delle nostre comunità scolastiche. Erba alta e presenza di rifiuti nei giardini e nelle aree pertinenziali possono favorire la presenza di insetti e animali. Grazie alla nostra società in house, a Rechi Multiservice, a cui è affidata tutta la manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza provinciale, nei prossimi giorni iniziano i lavori di sfalcio, di serbo, pulizie e manutenzione delle aree pertinenziali dei plessi. Per questo, aggiunge il consigliere delegato all'edilizia scolastica Martino Donofrio, abbiamo fatto uno sforzo per reperire maggiori risorse economiche, vista la quantità degli istituti scolastici interessati in tutto il nostro territorio provinciale e l'estensione delle aree verdi delle scuole su cui era necessario intervenire prima dell'inizio dell'anno scolastico. Tutti i plessi, fra sedi principali e succursali, vedranno lavori di manutenzione del verde, in particolare poi, grazie alle risorse economiche aggiuntive, molti di questi istituti avranno lavori di pulizia più radicali. Questo sarà possibile grazie alle ulteriori attrezzature e unità operative. Qui conclude il presidente Estrianese non è in gioco solo il diritto allo studio, ma anche il diritto alla salute e alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. La cronaca. Nella notte scorsa è stato al coltellato un giovane a Marina di Camerota, Ediforia, a 29 anni, e lavora nella località turistica costiera acilentana come guardiano notturno al porto. Avrebbe sorpreso ragazzi del napoletano saliti a bordo di alcune imbarcazioni quando ha chiesto loro di scendere è nata una lite culminata con una coltellata. Il ragazzo è ricoverato in ospedale ma fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per risalire i responsabili che sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter che sembra sia stato rubato, almeno in quanto gli investigatori hanno ricostruito finora attraverso le immagini di videosorveglianza della zona. Ancora la cronaca. Grave incidente domestico. Ieri pomeriggio a Capaccio Pestomo una bambina di 9 anni è rimasta ostionata dopo aver tentato di accendere uno zampirone con l'alcol. Il fatto è avvenuto mentre la bambina in vacanza con la famiglia si trovava con i genitori nel giardino di una villetta a pochi passi dal litorale in località Laura. Le ostioni sarebbero state causate dal ritorno di fiamma quando la bambina ha cercato di accendere lo zampirone con l'alcol. La piccola è stata prima condotta in codice rosso all'ospedale di Battipaglia e poi trasferite nell'isoccorso presso l'ospedale di Napoli. Non sarebbe in pericolo di vita. Voltiamo pagina. Con un triangolare di lusso si è concluso il ritiro della squadra primavera della Salernitana. Presso lo stadio Medici di Polla si sono affrontati i giovani della Salernitana la cui prima squadra milita in Serie A, i giovani del Benevento, squadra che milita nel campionato di Serie B e la Z Picerno della Lega Pro. Tre squadre che sono scese in campo per migliorare la preparazione di una serata che è stata anche occasione per salutare la primavera della Salernitana che ha concluso il ritiro precampionato a Polla. A ringraziare la comunità pollese per l'ospitalità ieri sera anche Stefano Collantuono, ora responsabile del settore giovanile e il team manager della Salernitana, Sasa Avallone. Vediamo i dettagli. Allenamento di prestigio sotto forma di triangolare per le squadre primavera di Benevento, Picerno e Salernitana. Le tre compaggini si sono affrontate nel pomeriggio di giovedì 25 agosto al campo sportivo Medici di Polla. Questo inoltre per Salernitana e Benevento è stata una sorta di assaggio di campionato in quanto le due squadre saranno avversarie nella prossima stagione di Primavera 2. I giovani della Salernitana arrivano a questo appuntamento dopo circa 10 giorni di ritiro proprio nella città di Polla e dopo aver affrontato le giovanili dello Sporting Sala trionfando per 14 reti a zero. Il triangolare, iniziato alle 17 e articolato in tre sfide da 45 minuti, ha offerto un ottimo spettacolo al pubblico presente sugli spalti, con partite ricche di emozioni ed agonismo. Il primo match tra Z, Picerno e Benevento è terminato 4 a 0 per la formazione delle streghe, che si è imposta dominando la partita a larghi tratti e senza lasciare spiragli per la rimonta. La seconda partita ha visto protagonisti Salernitana e Picerno. È stata una gara molto combattuta in cui i Granata si sono imposti solo per 1 a 0, contro un Picerno molto ben organizzato e ben messo in campo. L'ultima sfida più prestigiosa tra Benevento e Salernitana è terminata ai rigori dopo un pareggio nei 45 minuti regolamentari. La partita, insomma, ha visto vincitrice il Benevento, con protagonista il portiere, autore di due parate ai calci di rigore. Al termine di questo allenamento congiunto sono stati consegnati alcuni premi alle società. Con Michele Ficetola come moderatore, la Z Picerno e il Benevento sono stati premiati con targhe di riconoscimento. In seguito Stefano Colantuono, ex allenatore della prima squadra e da poco nominato responsabile del settore giovanile, ha ritirato una targa di riconoscimento consegnata da Valentino Di Brizzi, titolare della GB Di Brizzi, sponsor dell'evento. Premiati anche il settore talenti e il settore giovanile della squadra di Salerno. Presente tra i dirigenti il team manager dei Granata, Sasà Avallone, che ha ricevuto dalle mani del sindaco di Polla Massimo Loviso una targa in segno di riconoscenza per aver scelto Polla come sede di ritiro precampionato. Dal canto suo, Avallone, a nome della società Granata, ha donato una maglia celebrativa al sindaco Loviso per tutta la comunità pollese. Termina quindi così il ritiro della Salernitana a Polla. Ascoltiamo ora le interviste realizzate nella serata di ieri a Polla presso lo stadio Antonio Medici al sindaco Massimo Loviso che parla dell'impegno dell'amministrazione finalizzato a rafforzare la collaborazione con la OS Salernitana e al team manager Sasà Avallone sugli obiettivi della Salernitana in questo secondo anno di permanenza in A. Un'esperienza molto bella vissuta sia dall'amministrazione comunale, dai tanti componenti dell'amministrazione comunale che hanno seguito la squadra ma anche dalla comunità pollese, dagli sportivi e su questo davvero è stata una bellissima esperienza, un bellissimo momento, un connubio in verità che viene da lontano, sono circa 20 anni di contatti, di rapporti con la Salernitana calcio. Su questo campo è venuta anche la prima squadra, ci sono state altre rappresentative della Salernitana in questi anni, negli ultimi anni, quindi un grande momento di sport, un legame che si rafforza, 20 anni alle spalle ma soprattutto un grande futuro insieme, insieme alla squadra, insieme alla Presidente Iervolini e a tutti quanti i suoi collaboratori. Noi vorremmo crescere, crescere significa anche consolidare la squadra in questo campionato, nel massimo campionato di Serie A e la seconda volta consecutiva che ci siamo in Serie A vorremmo riconfermarci e questo lo possiamo fare attraverso il lavoro di tutti i giorni e cercare di arrivare alla salvezza, che è il nostro obiettivo più importante, magari cercando di arrivarci il prima possibile e di soffrire un po' meno rispetto all'anno scorso. Quest'anno c'è un nuovo responsabile del settore giovanile, Stefano Colantuono, che ha fatto le sue fortune prima da calciatore ma poi soprattutto anche da allenatore. ci mette una nuova veste che probabilmente, e spero per lui, gli possano dare ancora tante soddisfazioni. C'è da fare un grosso lavoro, però vedo che siamo partiti col piede giusto perché ci sono tanti professionisti importanti che possono dare sicuramente una mano a questi ragazzi a crescere e a far sì che ci possano essere dei campioni futuri, soprattutto per la salernitana. I nostri, non solo quelli di Salerno, ma quelli anche della provincia, qui ci troviamo a Polla, nel comprensore del Vallo di Diano, a me molto caro. Mi auguro che ci possano essere soddisfazioni importanti per loro e che poi si possa crescere sempre di più e portare sempre di più in alto il nome della salernitana di Salerno e di tutta la provincia salernitana. È un incarico che ho accettato con grande piacere, dopo tanti anni, ruoli diversi, chissà che non si possa incidere anche in questo, perché no? A Salerno mi trovo bene, sono molto legato e ho accettato di buon grado questo invito del Presidente, per cui c'è da lavorare, dobbiamo rimettere in piedi un po' tutto, però c'è grande spirito e soprattutto c'è uno staff veramente all'altezza. Aspettiamo una crescita di tutto il movimento, di tutte le squadre che quest'anno saranno nove e poi la femminile, quindi c'è un grande lavoro da fare. Il Presidente ci viene molto, la società ci viene molto, per cui siamo pronti e speriamo di raccogliere belle soddisfazioni, al di là dei risultati, ripeto, è importante la crescita. Nella mattinata di oggi, incidente stradale sulla 2 del Mediterraneo, che ha provocato un forte rallentamento del traffico, in particolare sulla corsia sud al chilometro 8,500. L'incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina, quando per cause ancora da accertare, un mezzo pesante che trasportava carne si è ribaltato sulla carreggiata in corrispondenza di Salerno. Sul posto è immediato l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle squadre ANAS per la gestione dell'evento e per effettuare tutte le operazioni necessarie a ripristinare in tempi celeri la circolazione. Non sono ancora chiare le modalità dell'accaduto. In ogni caso, pare, non si registrino feriti gravi ma solo disagi alla circolazione, che è stata rallentata per tutta la mattina anche a causa della chiusura della corsia sud, con uscita obbligatoria allo svincolo Salerno-Fratte. A intervenire per le operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato Sanseverino, che avvalendosi di un autogru della sede centrale, hanno provveduto a sollevare il mezzo pesante per poter consentire la rimozione. Le operazioni di messa in sicurezza provvisoria si sono protratte per tre ore, fino alle dieci. È stata riaperta una corsia per veicoli leggeri con massa fino a 7,5 tonnellate. È stato segnato il cammino storico-religioso Caggiano-Vigiano. Ieri mattina, con l'arrivo al santuario della Madonna Nera, si è concluso il percorso, durato tre giorni, che ha attraversato otto comuni. Vediamo. Si è concluso ieri mattina il cammino storico-religioso Caggiano-Vigiano, candidato a patrimonio dell'umanità UNESCO. L'installazione dell'ultimo cippo nei pressi del santuario della Madonna Nera sul Sacro Monte ha sancito il termine della tre giorni dell'itinerario sacro, che ha attraversato otto comuni alla riscoperta delle antiche tradizioni e della valorizzazione delle bellezze del territorio. L'itinerario è infatti preso il via da Caggiano lo scorso 23 agosto, con l'inaugurazione in località Cardoni del primo cippo, che ha segnato la prima tappa del percorso. Il cammino è poi proseguito il 24 agosto da Sasso di Castalda e dopo aver attraversato tutte le tappe previste nei comuni coinvolti, è arrivato ieri mattina al santuario della Madonna di Vigiano. Nel corso dell'iniziativa i sindaci e le autorità religiose hanno preso parte alla posa e all'inaugurazione dei cippi lungo tutto il percorso. Una a tre giorni fanno sapere dal comune di Caggiano carica di forti emozioni, fatica e condivisione che ha attraversato Caggiano, Sant'Angelo Le Fratte, Brienza, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsico Vetere e Vigiano. L'evento è stato promosso dall'Associazione Sportiva di Protezione Ambientale Caggiano Escursioni Verticali, dal Comitato Festa Madonna di Vigiano e dalle due comunità parrocchiali di Caggiano e di Vigiano. Alla manifestazione hanno dunque preso parte anche gli amministratori dei comuni attraversati e il sindaco di Vigiano, Amedeo Cicala, che con impegno e abnegazione ha percorso, affermano dal comune di Caggiano, l'intero itinerario con i nostri instancabili concittadini. Da oggi la devozione alla Madonna Nera attraverso un percorso unico e segnato è solo il punto di partenza per la valorizzazione e la riscoperta delle antiche tradizioni, delle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del nostro territorio, concludono dall'amministrazione caggianese. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti, a tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale. Domani ultimo appuntamento dell'estate a Teggiano per Agricola, il mercato contadino del Gal Vallodidiano. Si parte alle 17.30 fino alle 23 per fare incetta di tipicità e specialità e incontrare direttamente i produttori. Vediamo i dettagli nel servizio. Ortaggi e legumi, farine e cereali, formaggi, frutta, marmellate, vini e liquori, olio, pasta e pane, tisane e spezie. Una lunga lista di prodotti a chilometro zero del Vallodidiano e Cilento da mettere nel carrello della spesa e quanto si trova ad Agricola il mercato contadino itinerante del Gal. Ultimo appuntamento dell'estate domani, sabato 27 agosto a Teggiano. Si parte alle ore 17.30 fino alle 23 per fare incetta di tipicità e specialità e incontrare direttamente i produttori. In attesa del calendario autunnale, il mercato contadino del Gal Vallodidiano sarà domani in piazza San Cono per l'ultimo appuntamento in versione serale durante il quale il format non cambia. Oltre agli stand ci sarà sempre lo show cooking condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. Partito sabato 2 luglio da Sant'Arsenio, l'appuntamento settimanale con Agricola Vallodidiano è andato avanti per tutta l'estate, tutti i sabati di luglio e agosto a rotazione nei comuni di Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Sant'Arsenio e Teggiano. Il fulcro di ogni appuntamento è l'incontro tra produttori agricoli e territorio. L'obiettivo dell'iniziativa del Gal è proprio quello di creare uno spazio d'incontro tra il produttore agricolo e il consumatore finale. Agricola, così è stata presentata dagli ideatori e organizzatori, vuole essere la sede d'incontro tra la domanda e l'offerta delle eccellenze del territorio e un punto di ripartenza per l'economia locale, un'economia fondata sul commercio dei prodotti tipici che agricoli o artigianali raccontano storie di vita, di lavoro, di eccellenze, di comunità. Un bilancio più che positivo, nove tappe, quattro comuni, oltre 20 aziende e una lista lunghissima di prodotti locali che il pubblico può assaggiare e conoscere attraverso il racconto di chi li produce. Ci sta ancora la valigia sul letto, questo è il titolo della pellicola che sarà girata a partire da metà settembre a Capaccio Pestum. La città dei templi ritorna set di un film con nomi illustri del panorama cinematografico italiano. Vediamo. Capaccio Pestum diventerà presto un set cinematografico, ad annunciarlo il sindaco Franco Alfieri. Ci sta ancora la valigia sul letto, questo il titolo della pellicola, destinata alle sale cinematografiche e alle reti televisive Mediaset. Le riprese si svolgeranno sul territorio della nostra città a partire dalla seconda settimana di settembre, spiega Alfieri. Del cast fanno parte molti noti attori del panorama italiano, tra i quali spiccano Edoardo Tartaglia, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Veronica Mazza, Nunzia Schiano e Gianni Parisi. Il film, sostenuto dalla regione Campania, godrà del patrocinio morale e del supporto logistico del comune di Capaccio Pestum. Il progetto, infatti, conclude Alfieri, mira alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico del nostro territorio e non potrà che avere una positiva ricaduta economica sulle attività ricettive del posto. Sin dagli anni 50, la città dei Templi è stata location per le riprese di film hollywoodiani, con attori che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Come non ricordare, nel 1958, il sequel della principessa Sissi con Romy Schneider. Giassone e gli Argonauti del 1963 con Todd Armstrong, nel 1967, invece, Orson Welles scelse la Foce delle Sere per Il Marinaio del Gibraltar con Jean Moreau. Nel 1969 è Goodbye Mr. Chips girato a Pestum con il grande Peter O'Toole. Nel 2015, tre colossi come Stellan Skarsgård, Nick Nolte e Charlotte Rampling hanno girato Last Words. Da ricordare, infine, anche il cameo del Tempio di Neltuno nel Western Django di Quentin Tarantino. Il comune di Salerno non intende rinunciare all'evento delle luci d'artista. Dopo la gara per la diciassettesima edizione è andata deserta, considerando che non ci sarebbero i tempi per bandirne un'altra, ricorrerà ad un affidamento diretto. Ascoltiamo nel servizio cosa pensano i salernitani dell'evento che tutti considerano un momento di slancio per l'economia e il turismo della città. Il comune di Salerno non intende rinunciare all'evento delle luci d'artista dopo la gara dell'evento che quest'anno porterebbe la città di Salerno a celebrare la diciassettesima edizione andata deserta, considerando che non ci sarebbero i tempi per bandirne un'altra, ricorrerà all'affidamento diretto. E quanto è stato chiarito nel corso di una riunione della Commissione Trasparenza Palazzo di Città, è spiegato dal presidente Antonio Camarota, le luci d'artista, sebbene sia un evento quasi maggiorenne, ha rappresentato e rappresenta un momento di slancio per l'economia e il turismo della città. Al momento il comune di Salerno ancora non è riuscita ad affidare l'installazione delle luci d'artista. Secondo lei sarebbe un danno per la città di Salerno non avere anche quest'anno questo evento? Un danno è senz'altro qualcosa in meno, però diciamo che io sono molto fiduciosa che riusciranno ad affidare. Sono un po' quelle schermaglie che avvengono ad uso e consumo dei cittadini per far capire quanta onestà c'è nello sceglierlo, ma hanno già scelto signora, non ci prendiamo in giro. Lei come lo giudica l'evento? Un evento importante per la città di Salerno che dà un valore aggregato? Appunto un valore almeno materiale, almeno economico, perché io vedo tanta affluenza, quindi male non fa. A me personalmente non dà né piacere né fastidio che io abito qui a cento passi, quindi vedo giusto la gente che passa, insomma. Quindi a me personalmente non porta niente alla mia età. A loro porterà certamente della distrazione, probabilmente un po' di movimento, insomma, in una città abbastanza addormentata. Penso che sia un evento positivo da ripristinare, sicuramente. Un evento che apporta sicuramente un valore sotto il profilo turistico per la città, è importante, sebbene siano passati 17 anni. Sì, 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 ancora. Io conosco molta gente del nord che viene a Salerno e la conosce proprio perché è venuta dalle luci d'artista. Beh, è una bella manifestazione, anche se io abito alle via mercanti, quindi mi trovo nel clou delle luci e quindi un po' in... ho dei problemi, però è una bella manifestazione. Per cui... Una manifestazione che rappresenta sicuramente una cartolina turistica per la città di Salerno. Sicuramente, da lustro alla città. Credo che negli ultimi anni sia... diciamo che negli anni sia andato un po' a calare come qualità, però diciamo che è un evento che effettivamente attrae un sacco di persone e credo che sia un bene per la città alla fine. Questi giorni la gara bandita dal comune è andata deserta, al momento ancora non è stato affidato l'incarico. Secondo lei sarebbe un peccato non ripristinare l'iniziativa, la manifestazione? Sì, sì, sì. Immagino che anche i commercianti siano molto favorevoli a questo tipo di manifestazione. Cioè, sia un bene per tutta la città. Dovrebbero un attimino migliorare la qualità delle luci, perché all'inizio credo che i primi anni erano molto più belle delle ultime stagioni, però è andata così. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a stare con noi e a tutti buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.